Sarebbero anche, come dire, la scimmia dello zoo, si tromberebbero anche l'orango tango dello zoo, perché, diciamo, anche la figlia di Fantozzi sarebbero disposti a trombarsi. Ma questi sono pochi, diciamo, sono proprio quelli più sfigati in assoluto, insomma, che non trovano neanche se pagano. Al di là di questo, ogni uomo, diciamo, può avere le sue preferenze fondamentalmente, no? Però l'istinto è la prima parte. Stiamo guardando il mio fidanzato, bene, quello che si tocca sempre in alto, salutiamo il fidanzato di Marilyn, che se tanto mi tocca il naso anch'io, se tanto mi da tanto il fidanzato di Marilyn sarà Kennedy, Kennedy, salutiamo Kennedy, il fidanzato di Marilyn. Salutiamo anche Crazy Robbie, il re della balera, il re della balera. Quindi questo è un punto molto importante, salutiamo anche Betty Kotic. Se tu non riesci ad attrarlo, non riesci a stuzzicare, ovviamente, salutiamo anche Pink, ci sono sempre due parti contrastanti, no? Quindi la parte istintiva capisce nel meno, dicono ancora in meno di un secondo. Qualcuno ha parlato anche di 20-30 millisecondi. Cioè un uomo istintivamente, non se ne rende neanche conto quando ti vede, percepisce se lo attrai o meno. Quindi diciamo che ci sono due categorie di uomini, ci sono anzi tre categorie di uomini. Ci sono gli MDF, i morti di figa, che si scoprerebbero anche la scimmia dello zoo, perché altrimenti per avere rapporti devono pagare. Quindi, ma pagare, diciamo, non li vogliono neanche, li escono. No, vabbè, adesso a parte gli scherzi. Ci sono quelli che veramente sono morti di figa. Poi abbiamo il nuovo approccio di Crazy Robbie, che poi ci racconterà magari in un'intervista. Poi abbiamo la parte emotiva. La parte emotiva impiega un po' più di tempo a coinvolgersi. E la parte emotiva si coinvolge o per analogia, nel senso che interagisce, ad esempio, su tu subito e rapidamente, ti identifica, ad esempio, come una figura di riferimento infantile, oppure a seconda del tuo comportamento. Diciamo così che la parte emotiva a coinvolgersi potrebbe anche metterci una mezz'ora, tre quarti d'ora, un'ora. Insomma, ci potrebbe volere un po' di tempo, però non tantissimo tempo. E poi abbiamo la parte logico-razionale, che invece ci mette molto più tempo. Soprattutto se una persona è iperlogica, per coinvolgersi, cioè non per coinvolgersi, per prendersi un impegno con te, per impegnarsi, ci mette molto tempo. Soprattutto se a livello logico-razionale questa persona non ha voglia di avere impegni. Sì, magari uno dice che ci può essere un fidanzamento, ci può essere una qualche cosa, ma prendersi un impegno, ad esempio, di una convivenza, di un qualcosa. Primo perché, salutiamo la carampagnocca Patrizia Merotti, primo perché magari non ha nessuna intenzione di fare una convivenza, non ha proprio voglia. Quindi questo è un fatto fondamentale, no? Quindi è un punto fondamentale questo. Se una persona non ha voglia di impegnarsi, non si impegna fondamentalmente, no? Se invece una persona magari non ti giudica a livello logico, soltiamo anche sì, siccome la donna che ve bene per lui, per qualche motivo, e non è detto che ci debbano essere per forza, che essere dei motivi soggettivi. Però, diciamo, però questo è un punto fondamentale, no? Che uno magari non ha voglia, diciamo, perché tu non potresti non andare bene per età, per cultura. Cioè la parte logica è queste cose, no? Magari perché sei troppo vecchia. Ci sono uomini, ecco, la difficoltà più che altro delle donne per trovarsi dei coetanei, credo che sia intorno ai 40 anni fondamentalmente, perché un uomo di 40 anni, diciamo, se non ha figli, ad esempio, 35-40 anni, se non ha figli, difficilmente vuole una coetanea. Cioè vuole, se la può trombare tutte le volte che vuole, ma difficilmente vuole impegnarsi, perché una donna di 40 anni è praticamente, non dico che figli non può più avere,